Ciao a tutti ragazzi, allora breve video al volo su cosa sta succedendo sulla questione Ronaldo quel gestaccio che ha fatto Simeone, Ronaldo a quanto pare l'ha replicato sotto il settore ospiti cosa rischia? Questa è una bella domanda, è difficile da capire allo stato attuale delle cose quelli che sono i regolamenti e quelle che possono essere le possibili sanzioni io credo che alla fine visto e considerato che questo gesto è stato già sdoganato con Murigno, con Simeone in diverse occasioni, io credo che alla fine si risolverà tutto con una multa quindi multa e non squalifica, almeno è quello che mi auspico perché altrimenti stonerebbe un po' con le misure che sono state prese attualmente contro Simeone e contro Murigno detto questo speriamo che sia veramente così perché ai quarti uno come Ronaldo l'avete visto fa tutta la differenza del mondo è solo un breve video solo per spiegarvi questa cosa, staremo a vedere, sarò vigile su quel che accadrà a breve detto questo vi invito veramente a seguirmi, iscrivervi al canale perché stasera andremo in live ne farò ben due, uno alle 20 con Emilio, analisi tattica e faremo anche dei sorteggi simulati sorteggi che poi riposterò in un video a parte sempre su Youtube e alle 22 live con Michele Fusco di Juventibus parleremo del cammino in Champions della Juventus per cui mi raccomando non mancate lasciate like, iscrivetevi al canale, campanellina così rimanete aggiornati su tutti i contenuti che posterò da qui in avanti detto questo io vi saluto, ciao a tutti e sempre fino alla fine Forza Juventus! Grazie!